Sindaco, oggi è mancato il numero legale, qual è il suo commento? Beh, era abbastanza prevedibile, visto che qualcuno sta facendo con giochi politici il disinteresse delle necessità della città. Quindi, quando i livelli politici scendono a livelli minimi, questi sono i giochetti che si fanno. Non rendendosi conto che mandare a Ramengo una iniziativa come questa vuol dire far saltare tutta la tride dei piani integrati, che sono la recettività con gli alberghi, il trasferimento del pellicano, vuol dire far saltare la situazione della definizione dell'ex brasiolina e non avere i soldi per il palazzetto. Non solo, vuol dire non avere neanche gli oneri collegati con queste ristrutturazioni. Quindi vuol dire che qualcuno sta giocando con l'interesse della città. Quindi noi abbiamo convocato per martedì, in seconda convocazione, e quindi ne bastano otto, gli otto che oggi c'erano, per addivenire all'approvazione finale. Tenendo conto che l'approvazione finale è solo una constatazione, che non esistono osservazioni, che non esistono contraddizioni, perché la stessa provincia l'ha approvato, perché nel caso contrario i committenti potrebbero chiedere i danni legali al Comune. Quindi ci sono anche queste situazioni economiche che vanno tenute in considerazione. e chi si pregia di essere politici di rango queste cose dovrebbe analizzarle, anche perché poi se saltano iniziative di questo genere bisogna poi dare di fronte alla gente a farsi eleggere.